Una settimana dedicata al cittadino che potrà gratuitamente fare un'attività di screening in oltre di 200 farmacie delle marche per il dabieto. Gli avete una malattia importante, cronica, colpisce una fetta significativa alla popolazione marchigiana, circa 5% dei marchigiani ne sono affetti, ma c'è ancora una quota di popolazione che ha la malattia oppure borderline rispetto alla malattia ma non lo sa. Fare questo passaggio gratuito in farmacia significa poter scoprire di avere le necessità che prima vanno affrontate e meglio è come tutte le malattie, se gestita correttamente viene ridotto il danno, l'impatto sulla salute e se non gestita bene sfocia in momenti di acuzie, quindi ricovero ospedalieri e problemi importanti. Il diabete sistemico colpisce tante parti del nostro organismo, dal cuore alla circolazione in più in generale, gli occhi, quindi ha bisogno di essere attenzionato. Grazie a questo contributo che le farmacie danno alla nostra comunità, molti potranno evitare il peggio, l'invito è proprio quello a partecipare allo screening e a approfittare di questa occasione. In generale si sta rafforzando, sta crescendo il numero di ricette dematerializzate che i medici in medicina generale, gli altri medici stanno producendo, ancora il numero è basso, sta crescendo, stiamo resistendo molto perché attraverso la DEMA sarà possibile anche questo tipo di attività in farmacia.